WAHE KUJI BERRY, SONATI DA VOSTRO UNDRIK 41 IN QUESTO NUOVO BISODIO RIO KAI WATCH 3 Continuiamo come sempre blasters come stiamo facendo ultimamente da qualche giorno e c'è da fare la statua di Perdubis che potete vedere bene o male dove si trova ho aperto tutto il continente Perdubis, mi sembra di averlo aperto tutto se non sbaglio la mappa l'ho aperta tutta, forse mi manca un posto da scoprire con la nebbia, non lo so ad ogni modo scegliamo il cob di Perdubis c'è Corostra ad aspettarci come grande mostro livello consigliato 25, andiamo ho un micellano che è di livello basso ma mi dici subito dove si trovano le scale quindi non si perde tempo con lui magari se poi dovesse risultarmi un pochino più difficile fare gli altri livelli metto Biciamonte in squadra rimetto Biciamonte nel niente, facciamo così metto Laura al limite ecco le scale sono là, io mi appropinquerei verso le scale senza perdere tempo davvero il tesoro, lo prendiamo il tesoro? perchè qui praticamente c'è uno che c'è il tesoro ecco l'allà, lo sapevo io pronti per Corostra, siamo tutti pronti? siamo pronti ragazzi, ci siamo, eccolo qua guardalo muscoloso tanto mi pizzica la testa beh insomma, fa un po' di dannetti ma si fammi caricare intanto un po' di pisto come l'uva eccolo qua colpo totale? no ohio ohio grazie però non basta Fukuro Kujo non basta aiuto altra mina oh grande, perfetto proprio quello che aspettavo perchè tu non c'è mai l'energy max al massimo? mi devi spiegare questo tu io questo vorrei capire da parte di da parte di Home Blue ancora da paura allora lo finiamo stavolta più o meno sì facile facile anche senza Bishamonten ce l'abbiamo fatta ho raccolto qualche tesoro quindi se mi dà una moneta di Corostra io gli dico grazie se non me la dà da range cioè ma rangeo, non da range oh bella data grande sen tutto odisse odisse anian odisse anian non so mai capito come si pronuncia sto nome facciamolo allora prima non l'ho vista all'entrata in scena della statua quindi vorrei vederla ora ecco gli occhi non l'avevo visto bella oh due tre oh orca misaria porca zozza ma perché l'ho premuto lo sto vedendo che si muove come un maledetto sto cosa no potevo aspettare un pochettino vai qua mi ci arrabbio perché non è normale eccolo qua due sfere sacre e quella medicina che cura tutti quanti malati continuiamo col terzo piano della statua di Perdubis scheletristo livello 35 quindi l'ultimo livello sarà o 45 o 50 o meglio ancora spero 40 max castellius come ricompensa non sarebbe male ecco tesoro per spicace è questo quello che ti fa salire i livelli in maniera incredibile qui dovrei farmare allora un bel po' scheletristo è uno che è strano ma è uno yokai difensivo non si capisce boh strano oh due castellius dai livello 40 ma la serpe però possiamo prendere Kabukio il frutto per abito non mi interessa il tesoro della perspicace invece si facciamolo eccoci ragazzi l'ultimo piano forte eh è forte o mi sbaglio che cosa è successo ma ma che cosa ma che cosa significa ora ci ho capito davvero poco ragazzi che cosa non non No, 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 no. No, questo è difficile, ragazzi. Non è facile per niente. Devo portarmi il Laura. Sì, ma non si stanca mai. No! Dove va? Dov'è? 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 Carola. Mi sono perso Humble. Mi sono perso. No, no, lo stavo per recuperare. Sì, vabbè. È inutile posare il blaster. Ah! Ahio. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa. Ah! Dai! Sì, sgraffiami. Fai quello che vuoi. No, la coda no! Accidente a te. Compari qui. Eccotelo allora. Servi. Non ve l'ho fatto nulla. Ma mi sbaglio? Non gli sto facendo nulla. È andata, è andata, è andata! Sì! Anche senza Humble. Grande! Oh, yeah! Bello lo scudo del paladino! Bella, bella, bella. Non male come lotta. Davvero non male. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta davvero. Ho raccolto un artefatto, un oggetto per due, se non sbaglio, un tesoro. Chiamatelo com'è. Due. Mela e Kabukio! Al primo tentativo! Attenzione, abbiamo completato quattro perdubelischi. Quattro... Quattro... Dungeon, quindi ora... Con questo tutti i perdubelischi sono stati attivati. Fantastico, anche questo brilla. Questa è quarta, dovrebbe essere l'ultima. E adesso cosa succederà? Ora trepidante attesa. Vediamo, vediamo. Wow. Ora cosa si è avverto? Cosa? È comparsa una piorta, andiamo a vedere. Finalmente possiamo entrare. Sarà divertentissimo. Let's go! Andiamo. Ma ci andiamo in forma umana, quindi? Sì. Guarda qua! Guarda qua! Guarda qua! Guarda qua! What the hell? E che succede? Whoa, guardate si è aperta! meraviglioso ottimo lavoro soldati, come sempre è tutto a merda della pietrufa di Wyatt chissà cosa lega le pietre e la piramide c'è solo un modo per scoprirlo cosa ci aspetta oltre questa porta? haha, i blaster steel lo scopriranno attenti, facerete con la missione esplorazione piramide al lavoro meraviglioso davvero? sto qui con lo che hai da dire quindi ora ci sarebbe la piramide andiamo un po' a vedere cos'è un attimino piramide di perdu livello team consigliato 45 iniziamo col livello 45 ah ragazzi questa non ce la faccio no solo zampaserrata e zampalta, le ho iniziate però siccome ci vuole il livello 60 per continuare, devo un attimino affrontarle così per conto mio raccogliere qualche oggetto interessante potenziare appunto l'equipaggiamento e poi proseguire ad ogni modo Kugio questo video finisce qui e spero che vi sia piaciuto ovviamente vi ricordo il link per la pagina di Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ovviamente ci vediamo come sempre al prossimo video bye bye subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Grazie a tutti.